Ha fatto? Ha controllato? Deve controllare ancora, aspetti che mi appoggio qui davanti Aspetti che Mi appoggio Allora, eh, nel sicuro io vado per il metodo quello più efficace Certo, va benissimo Metto la bacchetta lì, eh, nel senso Ah, ehi, ma Vado, è pronto Va bene Tisca, tusca, topolino Ah Ho l'impressione che non è andata bene Non so, ho questo presentimento, ragazzi